Una notizia sconvolgente ha scosso il mondo della musica e ha toccato i cuori di innumerevoli fan. Il figlio di un amato cantante, a soli 17 anni, ha tragicamente perso la vita. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. La tragedia ha avuto luogo a Napoli, precisamente nella serata di giovedì 1 febbraio 2024, alle 22.50, gettando una famiglia e un'intera comunità nel dolore. Il giovane di nome Andrea stava guidando il suo piaggio 125 quando la sua vita ha preso una svolta tragica, terminando contro un palo della luce inerte. Nonostante gli sforzi disperati dei soccorritori, Andrea è deceduto sull'ambulanza a causa delle ferite devastanti ricevute nell'impatto. Nel cuore di questa dolorosa vicenda si cela l'identità del padre Affranto, Gennaro Mellone, un cantante che ha toccato l'anima di molti con le sue melodie. La sua pagina sui social si è trasformata in un mare di condoglianze, riflesso del calore e dell'affetto della comunità di fan. L'affetto di un amico speciale è evidente nei tributi, un eco del legame indissolubile tra padre e figlio, ora spezzato dalla tragedia. Il dolore di Gennaro Mellone e la perdita di Andrea hanno lasciato una cicatrice nel tessuto della loro famiglia e dei loro ammiratori, unendoli in un lutto per un giovane spirito estinto troppo presto. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Grazie per il supporto